musica cari amici di youtube ben ritornati sul mio canale oggi nuovo video tappeti erbosi vi ricordate che avevo seminato tutto attorno al mio green di paspalum chi mi segue sa che l'anno scorso avevo realizzato un green di paspalum qua nel mio terreno attorno ovviamente era tutto secco perché non c'era l'impianto di irrigazione e quest'anno l'ho voluto seminare tutto attorno per renderlo anche un po' più carino creando anche il bunker di sabbia così giusto per incasinarmi la vita e avere più cose da gestire trovate il mio canale la lavorazione del terreno, la semina avevo utilizzato il miscuglio champion di Lerafa Lerafa per Greenhouse Italia è una collaborazione questo miscuglio di festucca, poa e loietto varietà europee quindi molto chiare è germinato come potete vedere tre mesi questo dalla germinazione l'avevo fatto circa a marzo se non ricordo male avevo lavorato il terreno molto velocemente era pieno di infestanti avevo paura per la digitaria soprattutto e invece guardate qua non c'è un ciuffo di digitaria perché? perché il prato è molto fito è ben nutrito e comunque non ha permesso alle infestanti di germinare inizialmente ho avuto un po' di foglia larga trifoglio e se vi ricordate avevo fatto il diserbo ve l'avevo fatto anche vedere e lo trovate nel canale dopodiché ho concimato e tagliato ora abbiamo un'altezza di taglio che è sui 5 cm e questa altezza aiuterà sicuramente il tappeto erboso per quanto riguarda le temperature alte, elevate perché sì è vero il concime antistress come vi ho detto può aiutarvi, il potassio può aiutarvi se non l'abbiamo disponibile nel terreno siccome qua abbiamo già concimato e c'era il potassio sicuramente una giusta altezza di taglio è una buona irrigazione e può aiutarci poi a passare l'estate visto che la prossima settimana sono previsti 40 gradi è più, quindi altezza di taglio ovviamente di 5 cm o più alta lo so che a volte non è bello esteticamente e poi il mio paspalum vaginatum che è molto più basso siamo a 2 cm se riesco lo abbasso ulteriormente perché comunque l'ho lasciato un po' andare perché è piovuto tantissimo e quindi ho saltato diversi tagli quindi non posso tagliarlo drasticamente se no scalperei tanto quindi qua è già stata fatta una concimazione di spinta lo scorso mese adesso non farò la concimazione ad esempio potassica perché comunque quel potassio era già contenuto nel concime di spinta che ho dato quindi basta e avanza quindi non mi preoccupo assolutamente di fare una concimazione antistress quindi non è obbligatoria come vi ho detto farla e niente, ora vi faccio vedere un po' come è il prato giusto per rendervi partecipi e concludere poi la serie di video dalla lavorazione di terreno alla semina e poi alla gestione questo è il prato vedete le strisce perché ovviamente ho passato il rullo con il rullo posteriore del rasa erba guardate il prato com'è è bello fitto bello verde nonostante siano comunque varietà chiare rende tantissimo poi non sono così chiare la festucca oltretutto c'è qualche varietà scura guardate poi ovviamente questo è il paspalum quindi questo ragazzi non lo prendiamo neanche in considerazione e poi tutto attorno vedete qua stavo facendo anche mulching la mia idea è quella di fare mulching appunto oggi ho dovuto fare raccolta perché era veramente veramente alto e niente avete visto il prato è molto fitto in tre mesi è venuto su bene questo credo sia il quarto taglio che vado a fare lo sto tenendo ovviamente alto anche perché non lo voglio tagliare basso come il green assolutamente giusto per creare anche quell'effetto di distacco già si nota poi anche con il colore e niente in tre mesi è venuto su bene e adesso toccherà gestirlo comunque ve ne parlerò sicuramente durante la stagione e vediamo quello che succede per il momento nessuna malattia fungina ha colpito questo tappeto erboso qua rimane un po' più umido al mattino perché comunque rimane un po' coperto dal sole e poi diciamo dalle nove e mezza dieci inizia a prendere sole pieno e niente se volete informazioni domande qualsiasi cosa scrivete sempre qua sotto vi metto un link in descrizione del miscuglio che ho utilizzato se lo volete anche acquistare e niente poi vi ricordo di iscrivervi al canale pagina facebook e instagram green house italia e vi aspetto con un prossimo video ciao